Ho finito da poco di leggere il lavoro poetico di Maurizio Nocera, il fanalista d'Otranto nella collana I poeti dell'uomo e il mare. Si tratta di un titolo accattivante, fondamentalmente dedicato al faro della palacia intera d'Otranto, luogo mitopoietico di incroci esistenziali come quelli che hanno visto protagonisti Maurizio Nocera, Antonio Verri e Salvatore Toma e Maria Corti. Pometto in quartine, libretto agevole con interventi di Augusto Benemeglio, tra gli altri Donato Valli, Elio Pagliano, Antonio Corchia, Predrag Matvejevic. Splendita veste editoriale, fondamentalmente si tratta di un lavoro sulla luce, la stessa luce che soltanto un poeta nell'oscurità riesce a dare a tutto ciò che lo circonda, non solo i muretti a secco ma anche tutta la tradizione culturale millenaria dei messapi e di tutti coloro che hanno attraversato a queste latitudini il mare, hanno attraversato tempeste e sono diventati marinai pur vivendo sulla terraferma. Lo consiglio caldamente, nell'info box di questo video, i riferimenti per contattare l'autore.